Oramai ingaggiato tra gli amici di Oggi è un altro giorno, è tornato a trovarci Giorgio Marchesi! Ciao a tutti! Buongiorno! Posso chiamarti amico di Oggi è un altro giorno? Ma certo, certo! Ciao a tutti, buongiorno! Stai entrato con Marvin Gaye? Sì, mi piaceva questo titolo What's going on? Che cosa sta succedendo? Perché l'abbiamo appena visto, insomma, è un momento abbastanza assurdo, almeno inaspettato da tutti. Sì, di fronte al quale ci sentiamo insieme impotenti, affranti, sgomenti e ci sembra di essere tornati dietro nel passato. Approfitto per Marvin Gaye per salutare William Hart, che è morto ieri, attore straordinario. E perché mi è arrivato il collegamento? Perché i titoli di testa del grande freddo, film interpretato da William Hart, erano appunto cantati da Marvin Gaye con questa I call to the grab Wayne. Fantastico attore straordinario, tra l'altro inizia anche l'Oscar. Mi fa piacere anche ricordarlo, quello peraltro è un film meraviglioso di questa generazione sessantottina che si ritrova dopo anni. Un film che ho amato molto. Allora Giorgio, tu sarai da domani su Rai 1 in questa fiction che si chiama Studio Battaglia. Ora ne parliamo, peraltro sono tutte donne e tu sei l'unico beato fra le donne. No, beh, ci sono anche altri uomini, c'è Thomas Strabacchi, insomma ci sono anche altri uomini, insomma le protagoniste sono assolutamente donne. Ultima domanda sui giorni che stiamo vivendo, tu hai due figlie femmine. Ho due figli maschi. Due figli maschi, ecco la cosa, ricordavo che come gli stai spiegando il conflitto, la guerra? Ma devo dire la verità, hanno età molto differenti, per cui ho un quindicenne e ho invece un bambino di nove anni. Quindi diciamo che quello di nove anni ne abbiamo parlato, ma non tantissimo, anche perché purtroppo veniamo da già un periodo difficile. Diciamo che non sono stata una generazione particolarmente colpita negli ultimi due anni. Quindi abbiamo sentito le notizie, ne abbiamo parlato un po', abbiamo parlato più che altro della... una cosa che mi aveva colpito molto, insomma però le immagini delle famiglie che si muovono e che hanno tutto quello... Profili. Tutta la loro vita in una 24 ore, insomma era un'immagine molto forte. Sto cercando di evitarne invece tutto quello che sono le immagini di guerra, perché appunto insomma comunque è molto piccolo, non so esattamente quanto possa e come possa reagire. Credo che ne stiano parlando anche a scuola, fortunatamente, mentre con il quindicenne invece devo dire che era molto preparato sul Donbass e su altre forse più di mesi. Però anche credo che anche lì sia stato fatto un lavoro a scuola e quindi abbiano acceso insomma delle curiosità nei ragazzi. E spero che insomma questo sia un ruolo molto importante, quello di parlarne tra di loro, insieme a degli insegnanti e soprattutto con il linguaggio a loro più congeniale. E poi responsabilizza, fa crescere una generazione che ovviamente non è stata fortunata come la nostra, che siamo cresciuti in decenni di pace, diciamo dal Covid in poi è ovvio che sembra davvero possibile resettarsi, però insomma per loro non sarà difficile, non sarà facile, però li responsabilizza in qualche modo secondo te? Secondo me sì, è molto spaventoso dover rivedere per noi adulti almeno tutto quello che erano le nostre forse certezze. Ce l'abbiamo messa in discussione con il Covid da un certo punto di vista, questo però apre degli scenari importanti rispetto al nostro essere europei, convinti che con la cultura, con il benessere, con i nostri valori avremmo potuto vivere serenamente, invece evidentemente dobbiamo anche pensare che non tutto il mondo... Era la fine della storia, aveva scritto qualcuno, il secolo breve invece no, il secolo breve il Novecento è la fine della storia secondo appunto alcuni sociologi, economisti. Ma tu sei vissuto con i quattro nonni, no? Sì. Cioè li hai conosciuti tutti e quattro, loro ti parlavano della guerra? Molto, molto. E che cosa ti raccontavano? Beh, ho due nonni molto diversi. Beh, la cosa che mi affascinava di più era il fatto che comunque vivessero questi racconti che appunto per me erano assolutamente incredibili, come se fosse abbastanza normale. Cioè mio nonno paterno... Lui chi è? Lui è il nonno paterno, il grande Ernesto. Lui è stato in Germania, è stato deportato in Germania, ma per fortuna si è dato molto da fare. Lui lavorava, insomma, dava una mano. Lui mi disse sempre che quando chiedevano se erano capabili, serveva un idraulico, serveva un elettricista, serveva un moratore, lui alzava sempre la mano. E per fortuna appunto gli è andata bene, è tornato e quando è tornato nel frattempo mia nonna aveva messo al mondo mio padre. Per cui ecco queste, come dire, queste scene incredibili che mi raccontava, no? Di quando mia nonna ha rivisto lui, anche lei non se lo aspettava perché lui è arrivato con mezzi di fortuna, non so in quanti giorni, a piedi, col treno, con le carovane, insomma, in qualsiasi modo. E quindi questa immagine di due persone che nel frattempo non si erano più sentite perché lui scriveva ma ovviamente le lettere non arrivavano. E tornare a casa e trovarsi un figlio deve essere stato assolutamente incredibile. Quindi queste storie a me stupivano, anzi io sono stato un grande ascoltatore perché mi affascinavano molto. Poi ce n'era uno, mi raccontava, ce n'era uno invece furbo che rubava, però gli era simpatico, era uno di quelli più svegli. Dentro il campo di grigionia. Esatto, esatto. E lui era molto affascinato perché invece lui era l'uomo più buono del mondo, però a lui rideva ricordando questo che era un po' il furbo del gruppo. Invece l'altro mio nonno invece fece tutt'altro, nel senso che sparì, andò a Parigi, poi fu arrestato per una rissa, vabbè insomma un nonno molto simpatico e anche lui pieno di racconti curiosi. Che faceva a Parigi tuo nonno? Non lo so, ma mio nonno è apparso tra l'altro, anche lui non si sa molto. Questo è lui con te bimbo? Sì, sì, io sono quello vicino, nonno Giacomo lui. E lui invece era un uomo straordinario, appunto molto particolare perché si dice che fosse arrivato appunto, non si sapeva esattamente da dove, poi sposò mia nonna e durante la guerra era appunto a Parigi e fu arrestato perché litigò con un bergamasco. Perché era bergamasco anche lui. Tu sei bergamasco? Lui fece una battuta in dialetto e l'altro la capì e quindi... Sperava, ah chissà, forse a Parigi pensava che non fosse un cittadino. Esatto, esatto, esatto. No, non si immaginava di trovare un altro bergamasco. Ma che battuta io, te l'aveva raccontata che battuta? Sì, 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 era o il più bu di Ross, la coppa sua madre, che vuol dire il più buono dei Rossi ha ucciso sua mamma. Perché questo probabilmente era Rosso, tra l'altro io ho qualcosa di Rosso, per cui... Quell'altro era un Rosso che l'ha sentito e ha cominciato a litigare e fece anche, credo, una notte o due in carcere, per Rissa, per cui insomma erano due nonni molto diversi. Che cosa hai imparato da loro? E poi mandiamo la glippa. Beh, da tutte e due ho imparato da uno la gentilezza e l'attenzione verso gli altri, che era totale e che adesso purtroppo è un po' fuori moda. E invece dal nonno Giacomo tantissime cose, lui ci faceva vivere in mezzo alla natura, comprava gli animali, ci faceva stare in mezzo agli animali. E un'altra cosa, mi ricordo, una cosa che dico ogni tanto ai miei figli, era buono con i buoni e cattivo con i cattivi, diceva. Cioè essere sempre positivo, però se vedi poi dall'altra parte che c'è una sorta di, come dire, attacco ingiustificato e continuato, bisogna in qualche modo difendersi. Forse ha anche a che fare con qualcosa rispetto ai nostri giorni, insomma. Lui era quello parigino? Era quello parigino. Quello parigino, che si aveva visto un po' di gotte di crude. Era un po', sempre col cappello un po'. Come dico io, ti ricordo della rubrica di cuore? Hashtag niente resterà impunito. Esatto, esatto. Cuore, il settimanale satirico. Studio battaglia, la clip. Ma sapevo che ti sarebbe piaciuto questo posto. Ho sempre sognato una terrazza. Com'è andata oggi? Bene, benissimo. Ma se penso che adesso mi tocca rivedere mia madre... Secondo me... ...sarei contenta di rivederla. Ah sì? Sì? E perché? Che c'è? Mi ero dimenticato quanto sei bella. Ma smettila. Hai ragione. Non mi ero dimenticato. Tu c'hai mai ripensato? Ma cosa dici? Scusa. Scusa. Attenzione, attenzione potremmo dire. Attenzione, attenzione. Sì, no, avete preso una clip interessante perché va subito un po' nel cuore di questo rapporto. Faccio un piccolo resumo. È uno studio legale composto da tante donne o uno studio legale associato? Com'è? Ognuno ha le sue caratteristiche. Allora, in realtà c'è lo studio battaglia che è quello guidato dalla mamma del personaggio di Barbara Bubulova, Lunetta Savino, in cui lavoravano entrambe le figlie mentre la terza è ancora piccola e giovane e non interessata. E il personaggio di Barbara che si chiama Anna viene a lavorare nello studio Zander che invece è uno studio dove ci sono avvocati e avvocate. E ritrova te, che sei stato un flertarello dei tempi dell'università. E quindi qui si apre un grande tema siccome in questi tempi cupi almeno parlare d'amore un pochino ci risolleva lo spirito si apre un grande tema che è la cosiddetta minestra riscaldata. in realtà scoccherà l'amore o non scoccherà l'amore non lo sappiamo ma insomma lo capiremo. Non lo sappiamo. Perché lei è sposata nel frattempo con un altro compagno di università che è Massimo Ghini, giusto? No, che è Damo Strabacchi. Ah, ok. Damo Strabacchi. Massimo Ghini invece fa il padre delle ragazze quindi ex marito di Lunetta che ritorna dopo 25 anni dove si è dato alla fuga quindi insomma c'è anche questo amore cioè l'amore si può declinare e credo che in questo caso sia appunto quello che è accaduto nella scrittura insomma noi parliamo di amore in diversi modi c'è l'amore figliare l'amore con la mamma l'amore tra fratelli e sorelle e l'amore anche diciamo classico. Senti, li vediamo alcuni dei protagonisti di questa fiction perché ti mandano un saluto Miriam Dalmazio e Barbara Bubulova eccole qua. Oh che brave. Esimio avvocato Lunari mettiamo le cose in chiaro lei non mi fa molta simpatia ma le voglio comunque mandare un abbraccio perché a differenza sua il signor Giorgio Marchesi è molto simpatico. Ciao Giorgio ci vediamo allora domani sera su Rai 1 mi raccomando se questa volta non vieni per favore manda un messaggino prima ok? Ci siamo in tesi e te. Ciao, un abbraccio. Buonasera a tutti i telespettatori di oggi e un altro giorno io mi scuso di non essere lì con voi oggi in studio ma sono impegnata sul set però vi abbiamo mandato il miglior avvocato che abbiamo l'avvocato Munari alias Giorgio Marchesi che sono sicura che saprà raccontarvi cose molto interessanti sulla nostra serie quindi io vi aspetto domani sera su Rai 1 Studio Battaglia ciao Giorgio ciao ciao a tutti splendide splendide queste sorelle che molto diverse poi è bello vedere appunto quattro generi di donne molto differenti unite da un amore insomma della famiglia però insomma molto molto anche divertite è bello vedere le dinamiche femminili non sempre è stato raccontata una famiglia tutta al femminile insomma non spesso quindi è molto io mi sono divertito molto con loro e poi appunto ci sono un paio di battute che capiamo soltanto tra di noi ma voi lo capirete più avanti va bene ma tu sei felicemente sposato i due ragazzi appunto 15 e 16 anni come si chiamano uno ha un doppio nome allora uno si chiama Pietro Leone Pietro Leone e l'altro si chiama Giacomo ma ti è mai capiato di rinnamorarti o di appunto vivere una storia d'amore con un appunto un fiore che non colsi tra virgolette oppure non so una sì una storia d'amore che non si è mai consumata fino in fondo poi quando la rincontri ti è capitato? mi è capitato e come è andata? bene molto bene anche se era insomma una cosa molto a distanza quindi quindi si sapeva che sarebbe finita lì però come hai detto tu insomma un po' l'occasione è un po' per non avere rimpianti ogni tanto invece insomma è bello se c'è stato qualcosa con una persona magari non è capitata in quel momento poi potrebbe anche non capitare più perché poi passa il tempo e cambiano le alchimie invece in un caso è successo che mi ricordi poi bene è come un grande tema scematografico peraltro no? quello degli amori sospesi certo altro videomessaggio lunetta Savino ciao Giorgio ciao Giorgio ciao Serena buon pomeriggio a tutti ci tengo proprio a mandarti un grandissimo abbraccio Giorgio perché ho seguito da tanti anni il tuo percorso di attore e sono davvero contenta dei traguardi che hai raggiunto del momento bello che credo tu stia vivendo di soddisfazione professionale ma anche privata perché ci conosciamo da tanto tempo e sono contenta diciamo di condividere con te questa avventura di studio battaglia però avvocato Munari ci vediamo in tribunale che detta così non è male sì perché lei sta dall'altra parte però lunetta insomma ci conosciamo anche anche privatamente quindi ci conosciamo molto bene e abbiamo lavorato tantissimi anni fa insieme quindi insomma da lì è nata un'amicizia ripeto un po' allargata alla famiglia peraltro tua moglie è una collega Simonetta Solder 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 non si sa mai sempre l'angoscia soprattutto sotto Ucraina devo dire diciamo c'è una pronuncia a cui bisogna stare molto attenti e vi siete conosciuti peraltro sul set delle reazioni pericolose no non era il set era uno spettacolo teatrale sì era uno spettacolo teatrale anche perché di film ne sono stati fatti due sulle reazioni pericolose sì poi c'è quello mitico con Glenn Close esatto c'è proprio quello delle reazioni pericolose trascendo ogni mio controllo tu lo dicevi? se che non mi ricordo è passato troppo in qualche parte facevi Valmont gli facevo Valmont giustamente che è questo seduttore vabbè le reazioni pericose è il mio diciamo romanzo e film c'era John Malcovich e Glenn Close che erano assolutamente strategiche e una giovane Uma Thurman Uma Thurman vabbè Michelle Pfeiffer che fa la Solange ma poi bella la riduzione che c'è insomma l'adattamento che ne fecero dal libro io lessi anche il libro ma insomma e tua moglie cosa faceva Simonetta? lei faceva il personaggio di Glenn Close la cattiva quindi? sì 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 la cattiva che però insomma tra loro c'è sempre comunque un rapporto di grande di grande sfida e di grande tensione comunque erotica anche per cui insomma sì 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 lei dice a un certo punto nel film uno dei motivi per i quali non mi sono mai risposata nonostante una serie innumerevole di offerte è di mai più ricevere degli ordini e pertanto vi esorto ad adottare un tono meno maritale di voce e basta adesso la situazione è meravigliosa la sa tutta l'avrei potuta fare meglio ma voglio chiudere perché ti volevo chiedere una cosa sul teatro sghembo tu hai detto una cosa molto bella sulla gentilezza che facciamo nostra perché pensiamo che sia un valore che sia un po' desueto da invece diciamo di ramare nella società e anche questo elogio dell'imperfezione secondo me è molto bello ce lo racconti? sì 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 a me piacciono i difetti cerco anche di lavorarci insomma sui personaggi perché poi come dire i supereroi vanno bene per certi tipi di cinema però insomma noi siamo persone e quando dobbiamo raccontare dei personaggi come noi nella vita fanno una serie di errori anche nella bellezza mi piace ogni tanto c'è un'imperfezione perché tipo? beh non so in una donna insomma una piccola imperfezione che può essere appunto relativa al viso un occhio un naso leggermente insomma non magari ecco diciamo non l'effetto Barbie ecco la perfezione così mi sembra forse un po' anche lontana un po' tanto poi noi le facciamo diventare perfette con l'immaginazione e con l'amore e con l'amore certo che ti trasforma quindi ragazzi rilassiamoci tutte Giorgio Marchesi ci ha appena detto che ci vuole non perfette quindi no 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 e non è il solo Serena non è il solo io mi schiero con lui penso anche Samuel io sono già a posto quindi non si schiera non ti schiero ma anche io sono a posto in generale ah beh sì quell'imperfezione è sempre meglio rispetto alla perfezione perché che moso hai rifatto a fare il naso infatti mi hai fatto una cazzata grazie infatti te l'ho detto ma va bene dai diciamo che la navide di Jessica è adorabile stupenda il tuo difetto? io ne ho tanti uno? mi perdo mi perdo ma quello non è un difetto sei un po' distratto? sono molto distratto va bene dai so che ci reciti una poesia qui al piano con Memo ci fa veramente molto piacere ma è una poesia che ha una storia particolare perché è una poesia eccolo qua ma l'ho preso al volo tranquillo e lo metterò qui in tasca bravissimo ci salviamo facciamo un sottofondo adeguato sì è una poesia che parla purtroppo di quello che sta accadendo in questi giorni però ha una particolarità che è stata scritta da una bambina di 13 anni nel lontano 1973 per un'altra per un'altra guerra però credo che valga sempre Talik Sorek avevo una scatola di colori brillanti decisi vivi avevo una scatola di colori alcuni caldi altri molto freddi non avevo il rosso per il sangue dei feriti non avevo il nero per il pianto degli orfani non avevo il bianco per le mani e il volto dei morti non avevo il giallo per la sabbia ardente ma avevo l'arancio per la gioia della vita e il verde per i germogli e i nidi e il celeste dei chiari cieli splendenti e il rosa per i sogni e il riposo mi sono seduta e ho dipinto la pace grazie 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 davvero Giorgio Marchesi grazie a tutti di questo messaggio finale da domani su Raiun studio battaglia grazie grazie a tutti